Buongiorno a tutti per questa analisi domenicale di OG Crypto Trading e Investimenti. Cominciamo subito analizzando questa settimana molto particolare di Bitcoin che ha visto un rialzo poderoso negli ultimi giorni. Andando di fatto a farci porre le classiche domande del tipo è già finito il beer market, il beer market non è mai cominciato, dove possiamo andare se siamo diretti a 100.000? Andiamo a vedere i prossimi livelli di Bitcoin da tenere sott'occhio. Innanzitutto comincio andando ad invitarvi alla live che ci sarà il 9 febbraio di sera. Potete registrarvi in maniera totalmente gratuita attraverso i nostri canali Telegram o direttamente dal sito dove andremo ad analizzare gli NFTs con un artista di spessore che è Neontenic. Detto questo cominciamo subito questa analisi. Bitcoin che ha visto questo poderoso rialzo negli ultimi giorni. Questi qui sono i livelli particolari da attenzionare. La prima resistenza era quella 39.300, 39.400 che è stata bucata da questa poderosissima candela qua che ci fa ben sperare per un possibile continuo di rialzo dei prezzi. Bisogna comunque stare attenti ovviamente il downtrend di lungo periodo, quello macro che è cominciato effettivamente a novembre con il top fatto praticamente alla soglia dei 70.000 in realtà non ha ancora invertito completamente. Certo possiamo vedere come questa possa sembrare una struttura di bottom ad avvalorare questa tesi qui. C'è il fatto che la candela del 4 febbraio è andata a chiudere, questo è grafico giornaliero, è andata a chiudere sopra questa candela di espansione molto importante che segnava di fatto poi anche una resistenza. Quindi è importante mantenere questo livello qui attuale, i prossimi livelli interessanti sono quelli a 44.000 dove effettivamente avremo la prima rottura di uno swing e già lì possiamo cominciare a pensare a un'inversione di trend. Fintanto che non si raggiunge quel livello lì in tutta onestà può essere qualsiasi cosa quello che stiamo vedendo. In particolare abbiamo una salita repentina dell'RSI che torna immediatamente in ipervenduto, potrebbe fare effettivamente un'altra leg up verso l'alto ma tantissimo si deciderà esattamente in questa zona 44.000. Dopodiché più in alto troviamo un altro livello fondamentale che poi ci riporta all'interno di un semi range che abbiamo ottenuto per diverso tempo che è quello dei 47.500. Questi sono i principali due livelli da osservare sul piano macro. Sotto che cosa abbiamo? Sotto continuiamo ad avere ovviamente la zona dei 39.400 che deve essere retestato per fornire finalmente supporto e sotto abbiamo gli altri livelli che stavamo osservando in precedenza, ovvero quello dei 37.400 e il supporto a 35.900. Quindi pericolo di bear market finito? Purtroppo ancora no, certo ci sono segnali incoraggianti ma bisogna capire se è semplicemente una fase di lateralizzazione del mercato o se invece il downtrend è destinato a continuare. Purtroppo non è così semplice stabilirlo, per adesso lavoriamo sui livelli. Questa qui è la trend line di medio termine che è stata rotta da questa candela, molto importante. I volumi non sono particolarmente eccezionali perché possiamo vedere come ad esempio nella salita avuta a fine luglio che poi ha decretato la fine di quella zona di bottom verso i 30.000 effettivamente i volumi fossero leggermente più alti soprattutto nelle candele decisive. Al netto di questo è bene far notare il grafico del CME gap, che cosa è successo, dove è stato segnato il bottom, neanche a farlo apposta, questo qui era il gap che rimaneva aperto, quello dalla zona 32.930 a 34.420 che ci siamo lasciati aperti da appunto l'estate, che è stato completamente fillato, quindi è stato completamente riempito. Anche qua giù possiamo vedere come sopra non ci siano evidenti gap, fatta eccezione per questo piccolissimo gap in zona 41, 41.330 che comunque se il prezzo dovesse assestarsi esattamente in questa zona verrebbe automaticamente fillato, mentre invece in basso grava ancora lo spettro del gap, quello famoso dove c'è quell'inefficienza volumetrica gigantesca, quella in zona 26.100, 23.880, quindi teniamo sempre in considerazione anche i gap perché sono molto molto importanti. Questi cambiamenti repentini nel trend di breve sono dati da un fattore fondamentale, che è l'open interest, ovviamente delle posizioni a leva sugli exchange. Banalmente con tutta la variazione che c'è nelle posizioni a leva, che vanno a leve molto elevate, direttamente sono retailers, vediamo tantissime oscillazioni di prezzo repentine in un verso e in quell'altro perché ovviamente c'è molto interesse a liquidare sia long che short. Ad esempio adesso stiamo cominciando a vedere, prima di questa candela qui c'era un funding rate negativo su uno dei principali exchange che è Bybit per quanto riguarda i futures e sicuramente quindi dava spazio per andare a effettuare short squeeze. Comunque da un punto di vista macro per adesso non abbiamo ancora recuperato nessun livello fondamentale, tanto più che come vedete voi fin tanto che non si recuperano i 44.000 effettivamente non c'è stato nessun recupero di nessuno swing particolare, quindi non si può parlare di indebolimento del bear market. In realtà la strada a fare per invertire il trend è ancora un pochino lunga. Detto questo, per quanto riguarda invece Ethereum, andiamo a vedere due livelli su Ethereum, la resistenza principale resta questa qua segnata dei 3.340, anche questo qui ovviamente è lo swing precedente, fin tanto che non viene recuperata quella, non si può parlare di recupero dell'up trend. Inoltre abbiamo diversi livelli che abbiamo visto durante la settimana, la resistenza più importante è quella di 2.637 e adesso abbiamo questo clusterino qua giù che ci fornisce supporto da ritestare in zona 2.790, anche questo livello particolarmente importante per via di order block vari. Abbiamo segnato un bottom in zona 2.290 e questo qua per adesso è il nostro bottom. Ethereum è messo sicuramente meglio di Bitcoin su un piano strettamente macro, nel senso che come potete vedere siamo rimasti molto più lontani in percentuale rispetto al bottom segnato d'estate, ma questo è riscontrabile anche nel grafico Ethereum Bitcoin. Andiamo poi a vedere Solana. Solana, abbiamo questa zona qui blu che fa da spartiacque, questo ci indica che Solana può avere un'altra leg up dove va a finire questa leg up, quindi un'ipotetica posizione long. i punti di arrivo sarebbero prima il livello a 132.48, successivamente 154. Possiamo vedere come molte altcoin effettivamente si hanno rimaste molto indietro come struttura rispetto ad esempio a un Bitcoin e queste sono effettivamente le coin più interessanti da andare a tradare, perché ci lasciano più spazio prima di raggiungere il punto cruciale che poi è rappresentato dallo swing precedente. Quindi questi due livelli banalmente rappresentano il bottom della struttura di mercato precedente che abbiamo rotto a ribasso e invece il punto superiore il punto di swing, che effettivamente cambierebbe almeno nel breve la visione del trend in atto. Vi farei vedere anche un'altra coin che è WAN. WAN ha toccato l'1,618 inverso di Fibonacci in maniera perfetta dove è riuscita a costruire il bottom e adesso si trova sulla prima resistenza che poi coincide anche qui banalmente con il bottom della struttura di mercato dove ci stavamo appoggiando in zona 0,21,9. Rotta questa resistenza, in realtà si apre un'opportunità di long fino allo 0,236 di Fibonacci in zona 0,25, che comunque non è assolutamente male. Ricordatevi di cercare esattamente le coin che hanno questa tipologia qui di struttura perché sono quelle che effettivamente possono performare bene in ottica di una ripresa del mercato, anche di breve periodo. Quindi tutte quelle che sono in procinto del bottom della struttura precedente e hanno ancora spazio per andare a fillare tutta questa inefficienza di mercato. Andiamo infine a vedere la total che si trova adesso in una zona di resistenza, questo qui è lo 0,618 di Fibonacci ed era anche ovviamente il bottom della struttura precedente. Uguale qua giù ovviamente per rompere lo swing e questo qui sarebbe un grandissimo segnale di ripresa del trend, bisogna superare i 2,09 di capitalizzazione totale. Questa qui è quella che comprende sia Bitcoin, Ethereum e tutte le altcoin. Questo è tutto per quanto riguarda quest'analisi domenicale dove ancora vi invito a iscrivervi al nostro evento del 9 febbraio dove potrete anche interagire e fare tutte le domande del caso per quanto riguarda il mondo degli NFTs, soprattutto a chi li produce. Grazie a tutti e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!